Buonasera a tutti. Abbiamo capito che evidentemente abbiamo dimenticato di comunicare la variazione del programma perché nel Deblian, esattamente, signore, evidentemente presi dalla musica abbiamo dimenticato questo particolare. Comunque vi concediamo con molto piacere un bis tratto sempre dallo Stabat Mater di Fenaloni. Grazie. 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 Grazie a tutti per l'attenzione e diamo appuntamento a venerdì 29 maggio con il secondo appuntamento concertistico del Festival di Musica Sacra dal Barocco Bruzzese al Minimalismo Europeo. Ci sarà un programma interessantissimo, faremo Hard of Earth, lo Stabat Mater, poi faremo dei brani corali con Goreyš, che è un compositore polacco morto da due anni, quindi contemporaneo, e John Kenneth Tamer, un compostero inglese, sempre minimalista, e quindi un percorso che si apria verso il 900. Il 900 più bello, quello minimalista, quello non atonale, quello non dissonante, ma molto meditativo e con una grande ricchezza melodica. Quindi a tutti appuntamento a venerdì 29 maggio a San Salvatore, chiesa San Salvatore, non qui, perché utilizzeremo anche l'importante organo storico, Feltri dei Sedevili. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.